Pasqualina Napolitano CRS ma collabora spesso trasform già parlamentare europea di lungo corso eh c'hai tre minuti in meno perché tuo marito ne ha preso tre di più ma io vi voglio portare un saluto anche perché mi dispiace che questa mattina eh 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 stamattina non sono potuta essere con voi perché avevamo una storica manifestazione di corteo e piazza ad Anzio a Nettuno sulla Palestina evento importantissimo perché smuovere le cose in queste realtà non è facilissimo stata una bellissima esperienza anche perché siamo riusciti a mettere insieme un po' di vecchietti come me e di gente appunto che ha fatto politica e eh insieme a ad alcuni giovani ma soprattutto a giovani prevalentemente tunisini marocchini che vivono e lavorano nella nostra zona e la cosa bellissima è stata la passione che ci hanno messo e quindi abbiamo ricominciato a capo a raccogliere soldi fa lo striscione pigliare lenzuolo fare cartelli fare fagottini che simulavano i bambini eh morti eh e questo è stata l'esperienza di questa mattina eh tanto per fare anche perché secondo me bisogna cercare di trasformare questo sentimento dell'opinione pubblica europea in azioni politiche anche per far capire a quelli che ci governano che su questo terreno rischiamo di perdere le elezioni o comunque di rimetterci in termini di consenso perché immagino io sono anche per ehm immettere in discussioni elementi di preoccupazione perché alcuni paesi europei hanno già cambiato il sistema di arruolamento negli eserciti noi abbiamo ritenuto il fatto che la leva generalizzata fosse superata mi ricordo a proposito di ehm di femminismo eh che in quel periodo vi ricordate quando ci fu Spadolini che parlava della leva alle donne tanto per rendere pari con gli uomini con Lidia Menapace e Chiara Ingrao facemmo un bellissimo convegno di cui c'ho ancora la pubblicazione l'ho trovata alla casa delle donne dove eh che si chiamava né in divisa né in difese e ipotizzava l'idea che per tutti ragazzi e ragazze eh finita o diciamo in una certa fascia di età che poteva corrispondere con la migliorità loro potessero scegliere di eh dare un contributo alla patria così come dice la Costituzione che ciascuno deve dare un contributo per la difesa della patria ma la difesa della patria può essere eh 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 l'intervento idrogeologico può essere eh l'intervento sociale può essere mille cose presa una parte che poteva scegliere se voleva di fare un'esperienza di formazione militare e questa proposta si è realizzata e poi pensavamo che le università dovessero essere il punto di organizzazione di tutto questo anche per le persone, gli studenti, i ragazzi che a diciotto anni non avrebbero eh fatto l'università però diventavano appunto riferimento per la loro formazione. Spesso io credo che un po' di queste idee dovremmo poterle pure riprendere prima che Crosetto ci rimette la leva obbligatoria così come già sta annunciando e come in Danimarca hanno già fatto. Adesso la cosa appunto eh secondo me che preoccupa come quest'idea della guerra con tutto quello che si porta dietro sta entrando proprio nella possibilità nella vita nell'immaginario ma questo è pazzesco secondo me noi dobbiamo mettere paura alla gente cioè può essere che solo la destra piglia i voti sulla paura e non dobbiamo far capire che qui non si sta giocando si sta andando verso un precipizio grazie all'ignavia alla corta visione di tutti quelli che hanno in mano le sorti di questa Europa la quale ha tutto da perdere in una guerra che si preannuncia su questo nostro territorio comunque sia sia visto da sud sia visto da est l'epicentro questa volta sta qui salvo quello che succederà nel Pacifico che appunto si annuncia come altro quadrante di regolazione di conti mondiali per cui stanno stanno lavorando contro i nostri interessi i nostri destri figli delle generazioni future quando il negoziato era possibile adesso nessuno ricorda che il mese dopo che Putin è entrato nel territorio i turchi sono riusciti c'era pure Israele a a mettersi seduti e a mettere seduti tutti i negoziatori e fare fossero un passo dopodiché tutto questo è stato disfatto e c'è stato un episodio ancora molto scuro di uno dei negoziatori ucraini che è stato fatto fuori di tutto questo bisogna pure dare conto e le opinioni pubbliche questo è stato completamente cancellato naturalmente non difendo Putin il quale nel suo discorso subito dopo l'invasione vi ricordate che c'era l'anniversario della grande vittoria e che Negri pensava che lì lui annunciasse qualche atto di distensione e invece quello fece un discorso contro Lenin contro Khrushchev riprendendo eh lo zar l'ortodossia e eh lo zarismo e e naturalmente eh in quest'impasto lui ha costruito una narrazione che non c'ha niente a che fare con quella roba lì infatti accusò sia Khrushchev che Lenin di aver dato le autonomie eh a uno aver donato la Crimea e l'altro aver dato l'indipendenza e l'autonomia all'Ucraina quindi a letto di questo però il mostro è stato costruito via via lui appunto ha fatto anche ci ha messo del suo per esserlo ma non è in è è possibile il negoziato è possibile ancora i termini ci sono basta che l'Europa la smetta di portare sempre più avanti le provocazioni compresa l'ultima storia di usare i depositi interessi dei depositi russi che abbiamo nel gasse delle nostre banche perché gli europei si devono ricordare che se creiamo un precedente di questo tipo questo precedente poi dopo forse si può ritorcere contro chi lo fa quindi insomma siamo in questo ambito l'ultima cosa che voglio dire è il il cardinale Zutti perché ormai noi come riferimenti diciamo abbiamo questi ha fatto una domanda semplice semplice ma l'Europa ripudia la guerra eh no perché l'Europa non ha una costituzione non quindi non si capisce quest'esercito questa difesa che vogliono fare dove la appendiamo in una politica dove in quel caso nemmeno il Parlamento europeo ha nessun potere perché ha solo il potere di essere informato punto quindi attenzione perché io metto in guarda i nostri giuristi costituzionalisti eccetera che si stanno molto adoperando per studiare il pericolo delle riforme meloni di guardare le riforme meloni agganciate alla dimensione europea anche perché non è un caso che la signora meloni si trova benissimo in questa Europa dove lei negozia si muove ordina la commissione per formare la commissione è diventata il segretariato dei governi per cui si porta van der Leyen a Tunisi dove vuole lei e quindi io farei molta attenzione a questo legame per cui nessuna cessione di separatità se a queste condizioni se non si risponde alle domande l'Europa ripudia la guerra grazie Pasqualina grazie a tutti grazie a tutti